Già condannato a dieci mesi per lo stesso reato nei confronti dell'ex fidanzata, beneficiando anche della sospensione della pena per proseguire con un percorso terapeutico di recupero, un quarantenne di spine è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova ai domiciliari per aver continuato a perseguitare la donna. Aveva ricominciato a inviarle messaggi ossessivi, presentandosi anche nella sua abitazione, infastidendo tutta la famiglia. Ma non è tutto. A distanza di poche ore i carabinieri di Martellago hanno arrestato un altro uomo per lo stesso reato. Anche in questo caso la storia di persecuzioni aveva portato inizialmente all'applicazione urgente della misura di allontanamento da casa della fidanzata, con divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. Ma dopo questo primo esito di metà aprile, innumerevoli sono state le segnalazioni raccolte dai militari per violazione delle prescrizioni, che hanno dunque portato all'arresto. Grazie a tutti.